Un'idea golosissima da fare con le zucchine è la parmigiana bianca di zucchine. Con molta facilità porterete a tavola un secondo davvero buono, accattivante e piacevole per tutta la famiglia. Per questa ricetta non ci servono altro che delle zucchine preferibilmente scure, noi ne useremo quattro, della besciamella, del formaggio grattugiato, circa 30 grammi, della mozzarella, noi utilizzeremo quella per pizza, ne serviranno 250 grammi, e poi dei pinoli, del basilico fresco. Laviamo bene le zucchine, le spuntiamo e le tagliamo a fettine sottili di massimo 4 mm. Ci muniamo di una piastra antiaderente, la facciamo scaldare bene sul fuoco e andiamo a cuocere le nostre zucchine per pochi minuti, giusto per fargli prendere un po' di colore su entrambi i lati. Man mano che sono cotte, le trasferiamo su un piatto o su un vassoio e le aggiustiamo con un po' di sale. Fatto questo, ci serve ovviamente la besciamella. La prepariamo sciogliendo 50 grammi di burro sul fuoco, ci spostiamo poi dal fornello e aggiungiamo 40 grammi di farina 00. Mescoliamo bene per ottenere una cremina liscia senza grumi e andiamo nuovamente sul fuoco a fiamma media, dove aggiungiamo subito, ma mescolando sempre, mezzo litro di latte. Non fermiamoci mai, mescoliamo per non formare grumi e attendiamo quindi che questo liquido giunga ad ebollizione, cambiando consistenza. Alla comparsa delle prime bolle, la nostra besciamella è quasi pronta, possiamo spegnere e non resta che aggiungere sale quanto basta, un po' di noce moscata e circa 20 grammi di parmigiano. Mescoliamo ancora per sciogliere il formaggio e otteniamo una besciamella fluida che come vedete non deve essere appunto troppo solida, ma deve venire giù molto facilmente dal nostro cucchiaio. Proseguiamo tagliando la nostra mozzarella a fettine non troppo spesse e poi ancora ci occupiamo dei pinoli e per dare un tocco di croccantezza al nostro piatto, padellino, mettiamo i pinoli, li spostiamo sempre, li mescoliamo, li facciamo un po' saltare affinché possano colorirsi. Sporchiamo intanto il fondo della pirofila con qualche cucchiaio di besciamella e poi formiamo il primo strato posizionando le fettine di zucchine, uno accanto all'altro senza addossarle troppo. Se è necessario le tagliamo per adattarle alla misura della teglia. Sulle zucchine andiamo a mettere ancora un po' di besciamella, una manciata di pinoli, delle foglie di basilico intere o spezzettate, l'importante è che sia bello fresco, una manciata di formaggio grattugiato e poi andiamo ad adagiare la mozzarella a fette. Possiamo così proseguire formando il secondo e il terzo fino al quarto strato procedendo allo stesso modo con lo stesso ordine di ingredienti. L'ultimo strato in superficie dopo aver messo la mozzarella lo copriamo con ancora un po' di besciamella di modo che in cottura la mozzarella o il formaggio non si bruci troppo. Mettiamo anche una manciata di formaggio grattugiato e siamo pronti per andare in forno in modalità ventilata a 180 gradi, ovviamente è già caldo. Inforniamo per circa 25 o 30 minuti. E trascorse il tempo necessario riprendiamo la nostra parmigiana bianca, sfrigola ancora, emana un profumo buonissimo, però dobbiamo attendere prima di tagliarla. La lasciamo riposare almeno un quarto d'ora in modo che si possa assestare. Procediamo quindi con il taglio e vediamo subito la golosità di questa pietanza con la mozzarella che fila, con tutta questa besciamella che la rende cremosissima. Aspettiamo di conoscere i vostri commenti sotto questo video o anche sui nostri gruppi e vi aspettiamo anche sulle pagine cibodoc.it e vivomangiando.it sui nostri siti web con tante altre ricette.